del consumatore, ma anche a vantaggio soprattutto della piccola impresa, quella diffusa sul territorio, quella che nel nostro Paese riesce molte volte a sostenere la domanda turistica che è così importante per la nostra economia. Grazie. Onorevole A. Brignani Grazie Presidente, anche la componente di ALA intende aderire a questo emendamento, peraltro emendamento che aveva già presentato, infatti uno tra quelli in cui si chiede il ritiro era stato presentato dal sottoscritto, pertanto essendo già in linea con quanto oggi ha presentato l'onorevole Arlotti non facciamo altro che in conformità all'emendamento che noi presentato dare il nostro parere assolutamente favorevole a questo emendamento. Grazie. La ringrazio. A questo punto non vi sono altri interventi, lo poniamo in votazione. Si tratta l'emendamento Arlotti 32.012. C'è il parere favorevole della Commissione. Il Governo si rimette all'Aula. È favorevole del relatore di minoranza. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva a seguito dell'approvazione. di questo emendamento. Il 3.014 Prodani si considera assorbito. A questo punto 32.016 Colletti, contraria Commissione e Governo. Favorevole del relatore di minoranza. Votazione aperta. Benamati Tancredi, Minardo, Fanucci. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 32.017 Colletti, contraria Commissione e Governo. Favorevole del relatore di minoranza. La votazione aperta.